o benvenuto tutti quanti ragazzi in questo nuovo video quest'oggi è natale il video viene rilasciato il giorno di natale ma a me non me ne frega po po ok parliamo del metagame che appena trascorso ragazzi nella due list cap letteralmente questo è il metagame che vede master 2 nella sua best of one della top 100 della due list cap e come vediamo diciamo c'è stato un ritorno una conferma e un ritorno in meta diretto in questo caso qua ragazzi parliamo ovviamente di branded e la conferma è il vanquish soul no ma però prima di proseguire nel discutere vedere un attimino qualche lista volevo dirvi che da oggi nei prossimi giorni ragazzi arriveranno tutte quelle liste ragazzi qua su youtube di deck che ancora non abbiamo fatto per cui aspettatevi insomma quei deck che sono appunto che vedremo qui oppure comunque che sono presenti ma ancora non abbiamo visti che non si vedono eventualmente nel grafico perché per dire non vediamo l'abilizio nel grafico no non che lo dobbiamo portare però per farvi capire insomma c'è qualcosina che dobbiamo portare assolutamente in video che assolutamente è molto richiesto però va bene ne discuteremo poi da deck in deck poi andando avanti ebbene qui vediamo la presenza ragazzi a pari merito con vanquish soul 16.4 e 16.4 la presenza di branded ragazzi c'è e qui è forte per quale motivo perché è uscita guida quem sanctifier di in modo preciso secondo me secondo me no secondo me la presenza di branded qui in metagame e per la sua esplosività no per quello che riesce a fare e sfruttando anche la dannata erba che ragazzi è letteralmente una carta da bannare perché comunque abbiamo tra i due top vanquish soul è il pure lì che si riconferma ghostic nella sua versione migliore diciamo due deck che comunque fanno quel controllo con le carte a livello di campo no per cui a parte quelle interruzioni magari che si possono fare con f0 qualche ht e poi noir eccetera eccetera vanquish noir riesce insomma a girarci attorno no noir cerca di targettare si rimbalza la roba bim 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 sfrutta di me in curicara ma dopo andiamo a vedere mentre branded è qui come conseguenza del fatto che questi due siano secondo me i deck più forti no cioè secondo me è proprio qui per per il motivo dell'esplosività no di erba di tutti gli effetti che si attivano in end phase di tutto quello che può combinare perché appunto la diatriba dietro questo deck è relativa al fatto che prima branded aveva tre branded fusion adesso ne ha una ma com'è possibile che branded sia qui con branded fusion a uno com'è possibile ce lo siamo chiesti molto no e secondo me proprio per la per il fatto che questi due deck lavorano molto di campo non tanto non hanno esplosività no questi due deck mentre brand si può permettere con l'esplosività per andare oltre alle interruzioni che vanquish soul eppure li portano sul campo cioè certo anche bravo link è un deck molto esplosivo e infatti sfrutta molto appunto i suoi bestial no per andare a eliminare roba decimentare soprattutto magari a branded a matmec e altri deck non non a vanquish non tanto a porreli ragazzi però appunto il brand secondo me a questo punto qui è quello ma andiamo a vedere le decklist ragazzi inutile discutere ebbene vediamo che il vincitore ragazzi carmano il compagno di team di jesse cotton ha fatto è arrivato primo con tre deck come dice lui su twitter ragazzi con questo mazzo con lo zodiac letteralmente puro con l'aggiunta appunto dei fangler sfruttando gli strike e book of moon l'ha utilizzato per uscire da quella che è la bolla iniziale delle prime parti dai fine ai 30.000 punti circa di eh della della cap perché quella lì alla fine è una bolla che prevede molti deck random deck a caso ftk degli otk a caso deck completa ragazzi roba veramente che non ha senso no i conti sempre i runic che ti rovinano sempre la stick ragazzi se volete vedere la mia run che non l'abbiamo l'abbiamo fatta molto per giocare no non tanto per rincorrere un obiettivo molto per giocare infatti abbiamo cambiato un triliare di mazzi vedrete la potete recuperare sul canale dei vod che trovate in sovrimpressione da qualche parte qua sul canale ragazzi potete vedere come ragazzi i runic sono da eliminare dal gioco ragazzi c'è non tanto runic tanto più le flod che sono da eliminare dal gioco ok sono da eliminare ma vabbè detto questo vediamo insomma che con zodiac insomma con i ritorni dridenta 3 con tripla barrage insomma il deck comunque si conferma un buon deck con cui giocare infatti è uno dei deck che dovremo portare sul canale per farvi rivedere e riscoprire i zodiac o farvelo scoprire se voi non conoscete non avete vissuto l'incubo del tier 0 zodiac e con questo qua carmano è uscito dalla bolla delle prime fasi no dove ci sono i deck random e così via come dicevamo prima per poi continuare ragazzi letteralmente con bestial dragoling questo è letteralmente il deck con cui ha vinto la cup sempre ha detto a sua per l'appunto il deck causato per tutto l'evento dopo ovviamente essere usciti dalla bolla qui vedete appunto la deck list ragazzi con l'uscita appunto di bestial dispater e infine ha detto le ultime due o tre orette ho switchato a labyrinth labyrinth che non non abbiamo visto no nel nel grafico non c'è proprio francamente il motivo non lo comprendo ma allo stesso tempo comprendo che eventualmente appunto l'esplosività di certi mazzi il fatto che un deck come vanquish riesca a voidare alcune cose il fatto che se i pure li partono di nuarti toglie le trappole è molto fastidioso questo deck qua non ha avuto la possibilità appunto di eventualmente dire la sua però le ultime due ore insomma l'ha utilizzato per cui merito all'utilizzo ragazzi anche di labyrinth per cui avete tre deck list appunto allo zodiac il bestial dragoling ragazzi e i labyrinth ma proseguendo invece abbiamo il vanquish soul ragazzi è arrivato secondo ecco qui ragazzi c'è molto da discutere perché molta gente magari non capisce delle pot of desire ma ti banni 10 allora qui c'è anche un'altra diatriba dove viene sempre spiegato ragazzi piuttosto che briccare ti banni 10 e ti peschi due carte pulite no? cioè questo qua dovrebbe essere già una motivazione estremamente valida per farvi capire che in un gioco come questo ma comunque in generale piuttosto che perdere briccando tiri quella giara peschi 2 poi se ti banni la roba chi se ne frega anche perché non è un deck che ragazzi non è che ti vai a bannare tutto cioè non è sempre non è sempre mezzanotte cioè mezzogiorno vabbè vabbè avete capito insomma non mi viene un termine e il deck comunque è anche molto forte ragazzi perché sfrutta allora innanzitutto qua su master 2 ragazzi sono usciti jaolong e trappola che sono di agov per cui parliamo di anni avanti ragazzi di mesi 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 avanti probabilmente agov uscirà a metà del prossimo anno del 2024 per cui la presenza di jaolong della trappola il fatto che rispetto all'earl tcg sfrutti max c come elemento terra e il fatto che possa sfruttare kurikara non solo perché è forte ma anche come elemento fuoco ha dato la possibilità al mazzo di essere un deck estremamente versatile su master duel e soprattutto per la cap ragazzi infatti è un deck che poi oltretutto barna si ritrova contro erunic può andare a barnare in continuazione con ivy borger si trova contro erunic può evocare normal weiser kaiser nell'eventualità e continuare a spaccare tutto boom boom ogni turno boom 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 e bucare tutto l'ho fatto anche io ragazzi per cui è un'alternativa veramente molto valida shifter con cui può andare a bucare letteralmente le partite di tutti gli altri mazzi e dare veramente molto fastidio sfruttare ferir come elementi insomma per partire secondi e soprattutto come elemento terra per gli attributi e sfruttare eventualmente qualche beast in questo caso qui lui giocava mono magnamut che comunque va a prendere weiser per cui non è mai un problema poi abbiamo vabbè altri vanquish ragazzi abbiamo ecco i branded ragazzi sono praticamente la maggior parte sono dei branded con erba possiamo vederlo letteralmente qui 9.5 grass branded 2 branded ok e erba è da bandire ragazzi è letteralmente da bandire per me branded attualmente montato così è letteralmente un poccio cioè io non ha per me non ha né capo dei coda però fanno bordello girano fanno casino succede un macello non si capisce più niente francamente è un deck che non mi piace per niente come è strutturato attualmente 60 carte 50 carte e così via ragazzi non per me per me non c'è né capo né coda non mi piace non so cosa dire però se a voi piace ragazzi eccovi qua le liste sicuramente un deck che rompe i coglioni è molto forte soprattutto insomma in questo periodo perché ovviamente adesso a gennaio usciranno le nuove cartiche la super di samore eccetera eccetera probabilmente a marzo febbraio marzo ci sarà una nuova cup per poi andare a maggio con direttamente i world qualifier divisi per continente perché la cup ragazzi è mondiale dove vince solamente il primo ok per chiudere poi ragazzi dopo tutti questi brand chiudere con il solito sostanzioso ragazzi è solido ghost trick pure pure di ghost trick insomma vedete che la lista è estremamente pulita clean come insomma la conoscete però va bene ragazzi detto questo non abbiamo adesso dei matmech ma comunque li potete trovare ragazzi su master duel meta anche potete trovare molte più liste da poter consultare da poter sfruttare matmech con diametro 1 che letteralmente non fa nulla ma la sua presenza non è stata così forte a causa della presenza massiccia dei bestial che andavano a rimuovere poi sigma dal cimitero e così via non guardate queste aberrazioni che devono sparire dalla storia di yugioh in generale ragazzi che sono veramente una monnezza vedete potete trovare veramente una scataverna di liste anche labyrinth crash tira pure queste cose fanno sempre parte delle liste ragazzi della top 100 dei tier che qualcuno è riuscito ragazzi incredibilmente a cavarsene a me non girano queste liste qua ma va bene se loro girano va bene se voi gireranno va bene ragazzi benissimo manadium di quanta al tink oltretutto ragazzi molto figa questa lista oltretutto molto bella ma comunque per adesso quei deck che mancano anche sul canale da spiegare che molti ragazzi molti di voi vogliono e tra cui soprattutto molti vogliono lo zodiac noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video e fino a fine anno uscirà cercheremo di far uscire un video al giorno per portare quello che manca appunto per poi arrivare insomma a gennaio con il nuovo pacchetto e i superi di samurai insomma finalmente un bel deck superi di samurai un bellissimo deck che vi porterò e potrete vedere ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video e alla prossima